Siamo in una strada di montagna dove l'autobot e tre assi non ci si potrebbero persi sicuramente. Siamo in una situazione molto difficile per il cancello che non permette di avvicinarsi con il camion. Stiamo caricando il camion gru in bag. La pompa è posizionata sul retro del camion e abbiamo circa 20-25 metri di tutto. Questa è la fase di caricamento. Il posizionamento del greenbacker sul retro. Come potete vedere con lo stesso camion gru con cui noi facciamo il scarico dei bancali e quant'altro, bancali legna, bancali pellet e greenbacker, possiamo anche fare tranquillamente lo scarico. Grazie. Grazie a tutti.